Non ci sono comunicazioni ufficiali ma sono in corso le verifiche sugli incartamenti al centro della bufera che ha travolto il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Immacolata di Sapri. Ieri la commissione interna, composta dalla direttrice sanitaria Maria Ruocco, dal capo del personale Francesco Abitabile e dal medico Luigi Lupo, ha iniziato a lavorare effettuando la prima ispezione e la prima acquisizione di documenti. L'organismo è stato nominato dall'Asla di Salerno con l'obiettivo di fare luce sull'inchiesta della procura di Lago Negro che vede indagati al momento il primario Bruno Torsiello e la sua assistente Rosa Vomero. Un lavoro delicato, quello a cui è chiamata la commissione, su cui vige il massimo riservo perché dall'esito dello stesso dipende l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei due operatori sanitari che al momento sono al lavoro regolarmente. Nonostante l'inchiesta infatti al loro carico non sono state adottate misure cautelari dall'autorità giudiziaria e lo stesso direttore generale dell'Asla di Salerno Antonio Giordano che al momento chiede di posticipare ogni valutazione ha dichiarato che saranno gli sviluppi della vicenda giudiziaria unitamente alle verifiche interne a stabilire come l'azienda si comporterà nei confronti dei suoi dipendenti. Giudizio sospeso dunque per il momento e nessun provvedimento almeno per qualche altro giorno mentre prosegue il lavoro sia degli inquirenti che hanno nelle mani intercettazioni scottanti sia quello della commissione che sta avvagliando proprio i rapporti tra gli operatori e la struttura ospedaliera, l'organizzazione dell'attività intramenia e gli incartamenti connessi su cui si è soffermata anche la guardia di finanza di Sapri con il tenente Francesco Venditti per individuare le prove dell'irregolarità nei certificati relativi a sei aborti e del mancato rilascio delle fatture sulle prestazioni erogate. Al momento il primario e l'ossetrica sono stati raggiunti d'avviso di garanzie e sono formalmente indagati, il primo per mancato rispetto della legge sull'aborto, peculato e falso in atto pubblico, la seconda per peculato in concorso. Ora hanno 20 giorni di tempo per presentare memoria o farsi ascoltare dei magistrati. Il mio assistito, ha detto l'avvocato Giovanni Gaiardi, legale di Torsiello, ha argomentazioni valide per chiarire tutto ai magistrati. In questi giorni gli uffici giudiziari sono in ferie e questo vuol dire che i 20 giorni scatteranno dal primo settembre. Intanto fa discutere il documento inviato dal comitato permanente sull'ospedale di Sapri ai vertici regionali e sanitari, un durato d'accusa contro chi contribuisce a sottrarre risorse destinate al pubblico già in grossa difficoltà e contro quanti, medici compresi, restano in silenzio rispetto a una vicenda grave che ha coinvolto il loro collega.